Cambia Veste è il sito web istituzionale del Comune di Napoli che si rinnova con una nuova grafica ed una diversa organizzazione di contenuti e informazioni. Una pagina più leggera con immagini e video in primo piano migliora la consultazione di aree tematiche e di quelle dedicate alle municipalità. Viene introdotta inoltre la sezione Vivere la città con informazioni sulle mostre e gli eventi culturali più importanti. Il restyling del portale www.comune.napoli.it che si adatta graficamente ai diversi dispositivi utilizzati per consultarlo risponde alle linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione ed è stato pensato per semplificare l'accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online. In modo ricco di contenuti e di informazione per rafforzare comunicazione, devo dire anche innovazione, dettaglio, consentire la partecipazione dei cittadini con contenuti scritti ma anche con fotografie. E' importante per noi comunicare il lavoro enorme che si fa in città, il lavoro che fa questa amministrazione e poi la nostra è tra le città più cliccate al mondo. Quindi immagino che anche chi si incuriosisce sulla città o vuole venire a Napoli vada sul sito dell'amministrazione, del comune, di chi rappresenta la città. Quindi è una grande responsabilità. Siamo contenti di questo obiettivo, è un sito molto funzionale, molto puntuale, molto preciso che dà conto in modo corretto del lavoro che si svolge. Quindi non si tratta di politica, non si tratta di propaganda, non si tratta di opinioni, si tratta di fatti che servono a tutti per farsi poi un'opinione sulla città e sulle cose che si fanno, sulle opportunità, sulle cose belle e sui problemi e le sofferenze su cui siamo ogni giorno impegnati.